150 infermieri che saranno assunti nella ASL Toscana Sud-Est e saranno già a lavorare nelle prossime settimane. L'annuncio è stato fatto dal direttore generale della ASL Toscana Sud-Est, Antonio Durzo, con questa delibera dice proseguiamo nel percorso di rafforzamento dei nostri organici in tutte le zone e nelle posizioni più delicate e strategiche. Assieme al Dipartimento delle Professioni Infermieristiche abbiamo definito un programma che ci permetterà nelle prossime settimane di aumentare la dotazione di infermieri. Professionisti da assegnare alle strutture assistenziali, ospedaliere e territoriali per far fronte alle nuove necessità determinate dall'emergenza sanitaria in atto e in via prioritaria ad attività di vaccinazione anti-Covid, drive-thru per tamponi antigenici e molecolari, i team USCA per la presa in carico territoriale dei casi positivi e i reparti di degenza Covid. Gli infermieri saranno impiegati anche nell'attività di somministrazione della terapia antivirale. Lo sforzo organizzativo, economico e professionale messo in campo è in grado di rispondere, aggiunge Durzo, alle esigenze anche del post-pandemia. Questi professionisti, infatti, saranno i protagonisti della nuova fase della sanità. Dall'inizio della pandemia, nel marzo del 2020, la ASL Toscana Sud-Est ha potenziato con 848 nuovi ingressi il proprio organico, come si raggiungeranno le mille unità.